I contributi che sono venuti fuori, certamente vanno la pena. Saremo degli illusi, può darsi. E certamente oggi siamo una piccola miraranza che nel gioco della democrazia dei numeri potrebbe essere definita trascurabile. Per noi facciamo un altro ragionamento, una certa utilità che va fuori dal materiale. Cioè non si può quantizzare nel momento in cui ci sono tensioni, ci sono ideali, ci sono sentimenti e passioni da esprimere. Questo non è commerciabile. In un mondo che misura lo sviluppo semplicemente dei numeri, dal tasso dello sviluppo si misura dei numeri, dal dato dell'economia. Ma abbiamo mai fatto e pensato di creare una struttura, un'organizzazione che risurre sul piano della socialità, dei processi di crescita anche umana, della giustizia. Allora noi avremmo un rapporto ribaltato anche rispetto al passato. Questo paese ha meno giustizia, ha meno libertà, ha meno democrazia. L'avete già detto, questo credo che sia un terreno ovviamente pregustato e scaldariato. Dopo che abbiamo fatto questa volontazione noi che facciamo? Nel passato si è rottamato qualcosa, ma abbiamo rottamato tutto. Grazie.